La Cina ha tenuto esercitazioni militari su larga scala intorno a Taiwan e alle sue isole in quello che ha definito un avvertimento contro le ambizioni di indipendenza di Taipei. La prova di forza arriva a pochi giorni dal discorso tenuto dal presidente di Taiwan, Lai Ching-te, in occasione della giornata nazionale, in cui ha affermato che la Cina non ha il diritto di rappresentare l'isola e ha dichiarato il suo impegno a resistere all'annessione. Il Ministero della Difesa di Taiwan ha condannato le esercitazioni come una provocazione e si è detto pronto a reagire. Negli ultimi anni la Cina ha intensificato le esercitazioni militari intorno a Taiwan. L'insediamento dello stesso Lai a maggio è stato seguito da esercitazioni simili su larga scala. La Cina ha già detto che l'indipendenza di Taiwan è un vicolo cieco e che l'annessione da parte di Pechino è storicamente inevitabile.